Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Continuiamo la nostra rubrica per il Signore degli Anelli LCG di guida strategica regolistica all'avventura e lo facciamo andando a parlare oggi di un'avventura davvero pazzesca, bellissima. Stiamo parlando di viaggio attraverso il Belegaer, avventura che dà il via al ciclo della cerca sogni che introduce le quest di navigazione, navi, corsari, luoghi esotici, un'avventura davvero bellissima che serve un po' da grosso tutorial a questa espansione. Come sempre parleremo un po' di come funziona l'avventura, dei luoghi, dei nemici, delle trecere e così via e concluderemo dando qualche suggerimento regolistico. Io vi ricordo prima di iniziare, se vi piace il canale, di iscrivervi, di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e di venirci a trovare sul server Discord di Dovera Gondor, dove troverete tanti altri appassionati con cui sarà possibile interagire e attiva la pagina Facebook e la pagina Instagram di Dovera Gondor seguitela se vi fa piacere e se avete voglia di offrirvi un caffè potete anche andare a guardare le opzioni di abbonamento. Iniziamo! Allora, darò per scontato il fatto che abbiate visto questo video che vi lascio qua in alto cioè viaggio attraverso il Belegaer in modalità campagna perché all'interno di questo video troverete tutta la spiegazione delle regole di navigazione pertanto, anche se non l'avete visto tutto, andate a vedere la prima parte che spiega quelle che sono le regole di navigazione quindi noi possiamo cominciare a tuffarci in quelle che sono le carte impresa che fanno parte di questa prima avventura abbiamo la partenza dai porti, prepara il mazzo dei corsari, i giocatori preparano la flotta, mescolano ogni carta stadio 2 nel mazzo dell'impresa in modo che l'ordine sia casuale lasciando solo lo stadio 3 in fondo cerca nel mazzo degli incompri una copia di male impetuose, una copia di nave ricognizione e aggiungilo all'area di allestimento allora, il mazzo dei corsari è il mazzo fatto da tutti i nemici corsari cioè i nemici non nave che fanno parte di questa avventura che va mescolato e messo da parte una cosa molto importante è che quando in un qualsiasi momento il mazzo corsari finisce tutte le carte voi dovete rimescolare la pila degli scarti del mazzo corsari che sarà a parte con il mazzo corsari stesso cioè che cosa significa? che se voi ingaggiate un corsaro e poi lo fate fuori dovete metterlo in una pila secondaria degli scarti che sarà poi la pila degli scarti del mazzo dei corsari poi dovete preparare la vostra flotta cosa vuol dire preparare la vostra flotta? vuol dire che ogni giocatore deve prendersi una nave se si gioca in solo bisognerà prendere necessariamente la Dream Chaser, la cercatrice dei sogni e un'altra nave se si gioca in più giocatori uno dei giocatori deve necessariamente avere la Dream Chaser per cui da lì non si scappa, quindi mettiamoci la Dream Chaser in gioco che poi ci servirà anche per fare alcune considerazioni regolistiche poi dobbiamo prendere queste quattro carte imprese, mescolarle, metterle sotto l'1 in modo casuale e poi mettere sotto ovviamente la 3 dobbiamo cercare nel mazzo incontro una copia di Mare Impetuoso e una copia che è questo Rolling Seas e una copia di Nave Ricognizione e aggiungere all'area dell'estimento questa Scouting Ship 2572 Arrembaggio 1 anche Arrembaggio 1 è spiegato nel video che vi ho linkato prima non può avere attachment e prende meno 15 al costo di ingaggio fin tanto che siete off course, che cosa vuol dire off course? che siete fuori rotta anche qui vi rimando al video per parlare dell'essere rotta e dell'essere fuori rotta però cominciamo a dire che l'essere rotta sarà una cosa molto importante in questa avventura direi di fondamentale importanza andiamo a vedere che cosa ci dice l'1B l'1B ci dice navigazione mentre sei in rotta quindi mentre sei mentre il segnalino della rotta è sul sole ogni obiettivo nave riceve più 2 alla forza di volontà quindi anche la Dream Chaser e poi abbiamo questa parte ineretta che dice quando questo stadio è sconfitto se sei in rotta guarda due stadi dalla cima del mazzo dell'impresa e progredisci con uno di essi a scelta collocando l'altro in fondo al mazzo dell'impresa altrimenti progredisci con lo stadio in cima al mazzo dell'impresa che cosa vuol dire? in sintesi la storia ci racconta che noi ci avventuriamo attraverso il Belegaer con lo scopo di dar seguito a questa visione di Calfon che è questo nobile gondoriano per il quale la cerca sogni intraprende questa avventura verso ovest lo scopo quindi è quello di arrivare alla scena 3A che ovviamente è l'ultima scena ma per farlo noi dobbiamo proseguire lungo un certo numero di scene 2 la domanda è quante sono queste scene 2? beh la risposta ce la dice la scena 1B dipende perché se noi siamo in grado di superare questo stadio e di essere in rotta vuol dire che andremo a guardare due di questi stadi e uno diventerà il nostro stadio e l'altro lo metteremo sotto che cosa vuol dire? che realisticamente se sarà sotto il mazzo dell'impresa quindi sarà sotto la 3A non avremo a che fare con questo secondo stadio durante la partita se continueremo ad esplorare il mazzo delle imprese diciamo delle imprese principali fino ad arrivare alla 3A cioè in altre parole significa che se siamo in navigazione il nostro viaggio durerà meno perché avremo la possibilità di guardare le prime due carte mettere una sotto e proseguire con l'altra e attenzione perché andiamo un po' a vedere tutte le due e poi ci ritorniamo diciamo nella parte A ma tutte le due B dicono sostanzialmente la stessa cosa cioè dicono che quando questo stadio è sconfitto guarda due stadi dalla cima della mazzo imprese e progredisci con una scelta collocando l'altro in fondo al mazzo dell'impresa altrimenti progredisci con lo stadio in cima al mazzo dell'impresa quindi sia l'Into the Storm che le Nebbie Maledette che il Calph of Divination che The Star's Guidance quindi tutti questi qui ci dicono in sintesi che se saremo in rotta potremo guardare i primi due stadi sotto lo stadio attuale sceglierne uno e l'altro metterlo sotto lo stadio 3 fondamentalmente che poi non sarà più lo stadio 3 man mano che andremo avanti perché diventeranno stadi 2 che abbiamo messo sotto ok? questo è molto molto importante andiamo a leggere che cosa ci aspettano perché tutti partendo da Into the Storm quindi in mezzo alla tempesta hanno un effetto di rivelazione in particolare in mezzo alla tempesta dice cerca nel mazzo degli incontri nella pila degli scarti degli incontri una copia di tromba d'acqua e aggiunti all'area dell'estimento vediamo la tromba d'acqua che è questo waterspot che è un luogo minaccia 2 4 punti progresso quando la tua quando sei fuori rotta nel worst setting quindi nel setting peggiore poi ce l'ho anche in italiano ma per il momento va bene così quando hai l'opzione di viaggiare devi viaggiare verso la tromba d'acqua se possibile dopo che viaggi verso la tromba d'acqua fai 4 danni a ogni obiettivo nave che cosa vuol dire? vuol dire che se siamo fuori rotta non possiamo esimerci da viaggiare verso questo luogo e quando viaggiamo verso questo luogo sia che ci siamo viaggiati obbligatoriamente sia che l'abbiamo scelto perché la partita ci ha portato a sceglierlo dobbiamo fare 4 danni ad ogni obiettivo nave poi andiamo verso le nebbie maledette che anche qui c'è un effetto di rivelazione che dice di cercare il mazzo degli incontri una copia di banco di nebbia e aggiungerlo all'area di allestimento banco di nebbia è un luogo a minaccia 2 5 punti di progress fin tanto che la location è attiva i nemici nave non fanno verifiche di impegno non possono attaccare non possono essere attaccati che cosa vuol dire? che se il banco di nebbia è il luogo attivo i nemici che sono in area di allestimento non vedono la vostra minaccia ma se avete nemici nave che sono ingaggiati con voi non possono attaccare non possono essere attaccati è un'ottima scappatoia a un certo punto per evitare ingaggi che non volete oppure perché siete ingaggiati con una nave e non volete che essa vi attacchi nota bene si sta parlando solo dei nemici nave non dei nemici corsari che cosa vuol dire? che se c'è la nebbia e siete state combattendo con i corsari sulla vostra nave continuate a combatterci ma le navi tra loro non si combattono fondamentalmente nella visione di Calforn abbiamo un rivelazione cerca nel mazzo dell'incontro nella pila degli scarti dell'incontro una copia di nave in ricognizione e aggiungere all'area dell'estimento che è questa scouting ship che è la stessa con cui si parte nello stadio nello stadio 1 e infine nel guidati da una stella dobbiamo cercare negli incontri nella pila degli scarti dell'incontro una copia di mare stellato e aggiungere all'area dell'estimento mare stellato che tra l'altro ha una bellissima illustrazione mi sa che non l'ho messo qui quindi lo vado a prendere subito era forse l'ultimo luogo che mancava lo prendiamo subito lo starlight sea eccolo qui starlight sea 3 di minaccia 2 di punti progresso quando sei off course quindi quando sei non sei dove c'è il sole lo starlight sea quindi il mare stellato guadagna viaggia aumenta la minaccia di ogni giocatore di 3 ok ognuna di queste ha anche un testo che adesso andiamo a vedere per capire un po' bene ciò di cui stiamo parlando abbiamo in mezzo la tempesta il cui testo sostanzialmente dice navigazione e ha un obbligo l'obbligo è che alla fine della fase d'impresa se sei fuori rotta ogni giocatore deve distribuire un totale di 5 danni tra i personaggi che controlla andiamo a vedere la nebbia maledetta navigazione mentre sei fuori rotta ogni alleato non nave riceve meno 2 alla forza d'impresa quindi gli alleati nave hanno la loro stessa forza di presa forza di volontà gli altri alleati sfortunatamente no se andiamo a vedere la visione di Calphorn ci dice che mentre sei fuori rotta ogni nemico nave ottiene arrembaggio 1 significa che quando ingaggerete dei nemici vi spawneranno cioè si troveranno più pirati e infine il guidati dalla stella dice navigazione mentre sei fuori rotta ogni luogo oceano riceve più una la minaccia allora è chiaro che da qui nesce un quadro molto preciso che è un po' il leitmotiv di tutta questa quest non bisogna in alcun modo essere fuori rotta punto se viaggio attraverso il belegar e più in generale il ciclo della cerca sogni nelle quest di navigazione vogliono insegnarci qualcosa è che non bisogna per nessun motivo andare fuori rotta perché nel viaggio attraverso il belegar se si è fuori rotta avete visto che il viaggio dura di più perché avrete più scene se si è fuori rotta dovrete distribuire dei danni o gli alleati non nave ottengono un malus alla forza di volontà oppure ogni nemico nave ottiene arrembaggio 1 oppure ancora ogni luogo oceano ottiene più una la minaccia quindi nella difficoltà se vogliamo di una nuova meccanica di una nuova avventura il gioco ci dice in maniera molto chiara molto semplice che lo scopo l'obiettivo è rimanere in rotta sempre per qualsiasi motivo andiamo poi in quella che è la 3A che potrebbe essere la diciamo seconda scusate la terza o la quarta no dunque 1 2 3 potrebbe essere la quarta scena cioè la 1 la 2 poi un'altra 2 poi la quarta oppure a seconda di come va il viaggio potrebbe essere anche la quinta o la sesta che dice rivelazione cerca nel mazzo degli incontri nella pila degli scarti degli incontri il nemico nave con la minaccia più alta e aggiungere all'area di allestimento i due nemici nave con la minaccia più alta se ci sono tre più giocatori in gioco quindi entriamo nel prossimo stadio rivelando un nemico particolarmente e solitamente ostico però il 3B ci dice navigazione che non puoi collocare progressi sui corsari all'inseguimento a meno che tu non sia in rotta e ci dà due condizioni vittoria se non ci sono nemici nave in gioco gli eroi hanno sconfitto il loro eseguitore e i giocatori vincono la partita se questo stadio ha 10 più progressi su di essi gli eroi hanno seminato i loro eseguitori e i giocatori vincono la partita quindi al di là dell'aspetto simpatico di avere una doppia condizione di vittoria ci dice attenzione se fai fuori tutte le nave vince se hai 10 progressi o più su questo stadio vinci per mettere 10 progressi progressi o più su questo stadio devi essere in rotta e torniamo con questo tema concettuale del dover necessariamente sempre essere in rotta per cui ricapitolando voi avrete sempre la parola chiave navigazione che appunto è stata spiegata nel video e l'essere in rotta non solo vi dà dei vantaggi sulla durata della quest ma vi dà un vantaggio notevole nell'1b perché ogni obiettivo nave ottiene più 2 non vi dà svantaggi negli stadi 2 e soprattutto nello stadio 3 vi apre una seconda possibilità di vittoria cioè quella di poter vincere seminando i corsari e non tanto sconfiggendo la nave ok detto questo andiamo a vedere prima i luoghi poi i nemici poi infine le treceri allora per quanto riguarda i luoghi abbiamo il mare agitato 2 3 che mentre il mare agitato si trova nell'area di allestimento annulla il primo simbolo timone trovato durante ogni prova di navigazione va da sé che il mare agitato è uno degli obiettivi principali verso cui viaggiare perché non ha costi di viaggio negativi ma ha uno svantaggio nel rimanere in area di allestimento quindi rimane un bersaglio privilegiato per poter viaggiare per poterci viaggiare diciamo subito o in maniera repentina non appena questa carta viene risolta abbiamo poi una bella location mare calmo minaccia 1 4 punti progresso mentre mare calmo in luogo attivo guarda due carte aggiuntive dalla cima del mazzo degli incontri durante ogni prova di navigazione ecco se da un lato il mare agitato è subito da togliere dall'area dell'estimento cercando di viaggiarci il mare calmo invece il suggerimento per il mare calmo è quello di viaggiarci solo quando ipotizziamo che il prossimo turno sarà un turno nel quale vuoi perché siamo andati fuori rotta vuoi perché abbiamo nemici ingaggiati vuoi per vari motivi vogliamo fare vogliamo essere certi di vincere una prova di navigazione cercando di usare meno personaggi possibili quindi quando intuiamo che nel prossimo turno abbiamo questa condizione specifica lo scopo diciamo l'idea sarebbe viaggiare verso il mare calmo nota bene importante avendo due icone timone in basso a sinistra il mare calmo è un'ottima carta da avere sempre nel mazzo incontri quindi la scelta qui sarà tra il andare a togliersi una carta che viene scartata e viene rimescolata nel mazzo incontri e per via delle prove di navigazione ci troveremo spesso a rimescolare il mazzo incontri e invece tenersi in allestamento una carta che non solo ha una minaccia bassa ma ci facilita un turno d'impresa il turno successivo rispetto al quale abbiamo viaggiato verso il mare calmo quindi la scelta sarà sempre un po' in funzione di questa però questa è una carta che piacevolmente sempre vediamo perché ci dà una bella possibilità di approccio all'avventura sia in qualche modo tenendola in allestamento pronta per essere viaggiata sia invece esplorandola per avere quei segnalini timone all'interno del mazzo incontri che servono assolutamente un altro luogo con cui partiamo è il mare impetuoso è un 4-3 oceano viaggio cambia la direzione fuori rotta ecco a parte l'illustrazione bellissima abbiamo detto che vogliamo in ogni modo per quanto possibile evitare di trovarci nella situazione in cui siamo fuori rotta per cui il mare impetuoso è un classico bersaglio e ne parleremo dopo quando parleremo delle carte da far fuori in area di allestimento mi è capitato spesso probabilmente anche nel play true che vi ho elencato all'inizio di tenere il mare impetuoso in area di allestimento nonostante il 4-minaccia che è un valore molto alto ma il costo di andare fuori rotta è particolarmente gravoso lo è anche e soprattutto se per caso avete dei nemici ingaggiati dovete destinare dei personaggi all'attacco alla difesa e così via e magari avete pochi personaggi da destinare all'impresa essere fuori rotta significa che sarà più difficile ritornare in rotta perché fin tanto che voi ci siete al turno successivo quando entrerete nella fase di impresa sposterete il cursore di uno e quindi andrete di uno fuori rotta e dovrete rivelare un simbolo timone se nella precedente fase di viaggio per via del mare impetuoso siete già in qualche modo stati messi fuori rotta chiaramente i timoni da rivelare dal mazzo saranno due per cui come dire questa è una location che in linea di massima vogliamo esplorare in area di restimento il prima possibile per due motivi primo perché ha minaccia 4 e secondo questo vale un po' per tutte le location che andremo a tutte scusate quasi tutte le location che andremo a rivelare ha un simbolo timone in basso a sinistra per cui tutte le carte che hanno simbolo di timone devono necessariamente essere rimescolate il prima possibile nel mazzo e parlando di carte che hanno simbolo timone andiamo a vedere il mare stellato minaccia 3 2 mentre sei fuori rotta mare stellato tieni viaggio aumenta di 3 la minaccia di ogni giocatore anche in questo caso oltre a volerlo esplorare il prima possibile in area di allestimento ed è molto facile tra l'altro perché ha solo due punti progresso il costo di viaggio è gravoso qualora voi siate fuori rotta per cui cercate di viaggiarci il prima possibile quando siete ancora rotta privilegiate insomma l'esplorazione di questo luogo che sia come un luogo attivo che sia in area di allestimento perché appunto oltre ad aggiungervi 3 c'è anche un simbolino timone che è meglio rimescolare nel mazzo incontri ecco tenete presente che in questa avventura circa il 40 45% di carte ha un simbolino timone per cui questo potrebbe indurvi a dire beh destino normalmente due personaggi all'impresa diciamo che minimo sarà 3 spesso e volentieri sarà 4 perché non solo la sfortuna ci vede benissimo ma voi volete essere assolutamente certi di rimanere rotta quindi tutti gli sforzi che possono rimettere segnalini timone nel mazzo incontri vanno assolutamente perseguiti e fatti il banco di nebbia invece che abbiamo visto prima è quella classica location che rimane in area di allestimento e vi conviene viaggiarci un po' perché ha un 5 di progresso e quindi rispetto al 2 di minaccia potrebbe essere un po' scomodo viaggiarci ma soprattutto è comoda perché magari avete bisogno di un turno in cui non volete che facciano verifiche di ingaggio i nemici siete già ingaggiati con delle navi ma volete destinare le vostre navi all'impresa e quindi andate sul banco di nebbia in modo tale che non vi attacchino oppure le avete destinate all'impresa e vi prendereste gli incontrastati e così via quindi questa invece è una location che va benissimo lasciare in area di allestimento e viaggiarci alla bisogna anche perché appunto non ha simbolini timone quindi tanto vale che questa carta stia il più possibile fuori dal mazzo incontro per quanto riguarda invece l'ultimo luogo che abbiamo già commentato la tromba d'acqua anche questo luogo 2-4 chiaramente questo luogo vi dice non trovatevi mai nella condizione di essere fuori rotta perché se no vi beccate 4 danni in faccia a ogni obiettivo nave 4 danni che per un eroe sono un valore esagerato non sono un valore altissimo per le navi ma insomma non è che proprio vogliamo regalare dei danni e delle ferite delle navi al mazzo incontri quindi in generale questo è un altro luogo che vale la pena in qualche modo tenersi in area di allestimento o comunque non viaggiarci per cui vedete che abbiamo un'ampia tipologia di luoghi che a seconda non solo dei loro effetti ma anche dei segnalini timone che hanno in basso a sinistra varrà la pena tenere in allestimento o viaggiarci il prima possibile o esplorarli in area di allestimento questo diciamo è una cosa molto importante nei confronti di questa quest capire bene la meccanica per capire cosa conviene effettivamente fare non solo da un punto di vista del normale flusso di gioco del viaggio verso il luogo per tornare la minaccia ma anche non viaggio o viaggio in funzione del fatto che ci sono segnalini timone e di conseguenza mi rende più facile fare le prove di navigazione passiamoci verso i tre nemici che fanno parte di questo scenario allora abbiamo la nave in ricognizione che è un 35 25 27 nave corsaro a rembaggio 1 non può avere aggiunte e mentre 6 fuori rotta nave in ricognizione riceve meno 15 il costo di impegno ma allora questa è l'emblema di questa avventura e più in generale di questo ciclo cioè abbiamo nemici diciamo mediamente forti perché come vedete un 5 7 sono nemici che sono generalmente forti che però chiaramente devono essere gestiti dalle navi per cui il concetto di forte o debole con la nave è un pochino diverso rispetto al concetto dei personaggi con gli eroi e i nemici ha un arrembaggio 1 non può avere aggiunte cosa tipica di tutte le navi però notare bene non è non è immune agli effetti delle carte dei giocatori per cui non possiamo intrappolarla perché non può avere aggiunte ma possiamo per esempio fintarla o giocare altre carte che poi vedremo che possono aiutare nei confronti della nave e chiaramente prende meno 15 il costo di ingaggio fintanto che si è off course quindi fintanto che si è fuori rotta qual è diciamo la discriminante 35 è un valore che cercheremo sempre di tenere a mente anche perché potrebbe anche essere che questa nave stia lì tutta la partita fintanto che noi siamo bravi a rimanere rotta quel 2 di minaccia sta in area di allestimento ci ritroviamo spesso volentieri grazie magari alla gestione delle minacce sotto la minaccia 35 quindi lo scouting chic potrebbe tranquillamente non avere in cognizione potrebbe tranquillamente rimanere lì tutta la partita a patto che siamo in grado di rimanere in rotta perché rimando fuori rotta ci porta a un costo di impegno 20 che ovviamente è più difficile dove gestire e non soltanto ci ritroveremo un nemico nave ingaggiato con noi ma anche uno dei corsari e i corsari adesso tra poco li vedremo possono dare un discreto fastidio a seconda di quelli che andiamo a pescare andiamo a vedere la seconda nave che è l'incrociatore leggero che ragionevolmente sarà la nave che verrà pescata se non ne avete già tutte in gioco nel passaggio dallo stadio 2 allo stadio 3 perché dice cercate nel mazzo incontri di scarpai per la nemico nave con la più alta minaccia aggiungiamola alla radio allestimento quindi il nemico con la più alta minaccia è questo incrociatore leggero da minaccia 4 vedete che le statistiche sono di tutto rispetto rispetto alla nave di raccognizione quindi 4, 6, 5, 7 ha un arrembaggio 2 il che è ovviamente molto più pericoloso non può aver aggiunto e ogni nemico razziatore rivelato all'ammazzo dei corsari a causa della parola chiave arrembaggio un incrociatore leggero entra in gioco con una risorsa su di essa questo è un bel problema questa nave perché il 37 potrebbe non essere un valore molto distante soprattutto il late game il 4 di minaccia in area dellestimento è abbastanza importante e l'arrembaggio 2 potenziato potrebbe dare particolarmente fastidio per cui sappiate che questa nave nel passaggio dalla 2 alla 3 insomma se siamo lontani dal 37 ricordate questo valore se siamo lontani dal 37 non sarà generalmente un problema se siamo vicini al 37 sarà un problema che avremo a che fare nello stadio 3 parlando di problemi andiamo verso la nave da guerra corsara che è questo nemico bifi questo nemico gigante da 44 3849 quindi statistiche mostruose arrembaggio 3 arrembaggio 3 fermiamoci un secondo a questo concetto di arrembaggio 3 quindi ci butterà fuori i tre nemici quando la ingaggiamo mentre nave corsara si trova nell'area dell'estimento non può essere danneggiata e ottiene arciere 4 per quanto riguarda i corsari abbiamo il predone astuto 361224 che riceve più 1 ad ogni statistica all'attacco alla difesa per ogni risorsa su di S quando ti impegna scarta un'aggiunta che controlli e colloca su pirata astuto un'ammontare di risorse e pare il costo stampato di quella giunta il classico coraggio inaspettato che vi beccate quando il pirata vi ingaggia beh può dare fastidio perché non solo perdete un'aggiunta ma magari lo potenziate anche notevolmente no capite coraggio inaspettato costa 2 avere un nemico che ha 2224 è un discorso avere un nemico che ha 444 è un altro discorso poi abbiamo il predone feroce 2333 vedete che hanno tutti beh questa minaccia 12 obbligo quando predone feroce ti impegna scarta una carta casuale della tua mano e colloca su predone feroce un'ammontare di risorse pare al costo stampato di quella carta quando predone feroce ti attacca distribuisci tra i personaggi che controlli un totale di danni pare al numero di risorse su predone feroce ora è chiaro che se da un lato il predone astuto potreste tenervelo lì e far fatica anche ad attaccarlo ma diciamo vi da un fastidio relativo nel momento in cui ho ingaggiato il predone feroce se magari vi ha fatto scartare una carta da 2 o da 3 ogni volta che attacca va a a farvi 2 o 3 danni da dare tra i personaggi per cui diventa un obiettivo principale il predone feroce da far fuori il prima possibile la scelta che forse risulta quella un pochino meno sfortunata è il marinaio su drone che è un corsaro 0211 0214 che dice che mentre il marinaio su drone è impegnato con te ogni nemico nave è impegnato con te contribuisce con la sua minaccia alla minaccia totale in area di allestimento fastidioso fortunatamente l'attacco 2 soprattutto i 5 punti ferita lo mettono tra quelli un pochino più facili da gestire sia perché potresti prenderti un incontrastato a patto di essere rotta e poi vediamo perché sia perché 5 può essere gestibile dall'attacco di un eroe da 3 e un alleato da 2 sia perché il suo è uno svantaggio indubbiamente perché magari vi siete proprio tolti la nave per togliere la minaccia della nave in area di allestimento però in linea generale tra tutti i corsari è quello che forse si vede un po' più volentieri cosa che invece non si vede più volentieri è il capitano di Umbar che ha un 40 4, 5, 3, 5 quindi statistiche da mini boss fin tanto che il capitano di Umbar è impegnato con te i personaggi che controlli non possono attaccare i nemici nave vabbè questo diciamo che già è una priorità farlo fuori per via del suo attacco 5 quindi o potete gestire se avete un difensore buildato altrimenti dovrete sacrificare gli alleati e quindi va fatto fuori il prima possibile la sua abilità spinge in quel senso lì nel senso che se vi tenete una nave perché volete far fuori la nave con cui siete ingaggiato per aumentare la più forte possibilità di attaccare la nave perché magari appunto vi tenete la nave stappata vi tenete un alleato o un eroe che attacca che vuole attaccare la nave per farla fuori beh lui vi dice no questa cosa non si può fare pertanto la priorità è assolutamente quella di far fuori questo nemico il prima possibile spostandoci alle treceri andiamo a vedere la spinti fuori rotta rivelazione cambia la direzione fuori rotta oppure rimuovi tutti i progressi dall'impresa attuale e aumenta di 4 la minaccia di ogni giocatore allora è importante se siete già al massimo del fuori rotta non potete andare ulteriormente fuori rotta cioè se siete diciamo in questo simbolino qui a sinistra quindi col fulmine non potete sceglierlo ma fortunatamente se avete zero progressi potete comunque rimuovere zero progressi aumentare la di 4 la minaccia di ogni giocatore anziché scegliere di andare fuori rotta il che normalmente è un po' la scelta migliore perché è meglio avere un 4 di minaccia in più che potete chiaramente gestire piuttosto che andare fuori rotta questo è l'ina generale insomma deve essere quello che è chiaro da questa avventura e spero di averlo chiarito più volte abbiamo anche il vento incollerito rivelazione se sei fuori rotta infligge un danno a ogni personaggio in gioco se la direzione attuale è nella condizione peggiore questo effetto non può essere annullato anche su questo non diciamo nient'altro che è una delle pochissime treceri che se siete fuori rotta in tutto il gioco non fa niente quindi anche solo per avere un doppio tripla copia di questa carta nel mazzo che è una carta benevola di fatto perché la rivelate non fa niente vale la pena essere rotta anche solo per questo motivo per realtà vale per mille altri motivi però generalmente sappiate che solo questo ci serve per dire vale sempre essere la pena vale la pena essere sempre rotta perché se mi becco un turno che rivelo una di queste che non fa nulla beh allora siamo davvero messi messi bene quindi in linea generale sappiate che vale sempre non mi stancherò di dirlo la pena essere in rotta la tempesta improvvisa è una sventura meteo rivelazione cambia la direzione fuori rotta oppure infligge un danno a ogni personaggio esaurito è chiaro che qua dipenderà molto dal vostro board state perché se potrete in qualche modo cambiare la direzione fuori rotta perché magari siete alla fine piuttosto che per vari motivi cambierete la direzione fuori rotta se potrete riuscire a dare dei danni agli alleati senza perdere troppi pezzi darete i danni agli alleati in linea generale siccome tra i consigli di deck building diremo che varrà la pena avere tanti piccoli alleati e tanti piccoli alleati ovviamente significa alleati con poche punti ferita probabilmente qui sarete costretti ad andare fuori rotta non lo so dipende un po' dal board state da quanti personaggi avete destinato però considerando che destinate dei personaggi alla prova di navigazione destinate dei personaggi all'impresa è facile che nel momento in cui rivelate questa carta vi ritrovate magari 5, 6, 7, 8 personaggi tappati magari 4, 5 di questi hanno un punto ferita beh allora chiaramente qui la scelta sarà quella di andare necessariamente fuori rotta andando sull'ultima carta abbiamo la squadra di abbordaggio rivelazione ogni giocatore rivela una carta dalla cima del mazzo dei corsari la mette in gioco impegnata con lui questa è una carta che in true solo non è devastante se sapete insomma se siete sempre pronti a poter prendere un nemico in 4 giocatori potrebbe essere un po' fastidioso perché è una è una carta che vale 4 nemici quindi è vero che non vi da minacce in area di allestimento sia in solo che in multiplayer è vero che non che vi rimanda il problema alla fase di combattimento quindi magari avete finte avete eroi stappati e così via però è anche vero che dovete insomma sapere che pur giocando snichi pur giocando a minaccia bassa pur cercando di evitare gli ingaggi questa carta potrebbe in qualche modo sempre costringervi a beccare un nemico prima di vedere alcuni consigli su come approcciare l'avventura anche se insomma mi sembra di aver già disseminato un concetto molto chiaro che è quello del fare il possibile per rimanere rotta andiamo a vedere gli effetti ombra che non faranno altro che confermare quanto dico partiamo da le acque impetuose effetto ombra se sei fuori rotta il nemico prende più 2 all'attacco le acque calme il nemico attaccante prende più 1 più 3 invece si attacca un nemico nave il rolling seas dice se questo attacco fa danni a un nemico nave gira vai fuori rotta lo star red sea dice il nemico attaccante prende più 1 più 2 invece se sei fuori rotta il banco di nebbia dice se sei fuori rotta nella versione peggiore il nemico attaccante fa un attacco addizionale dopo questo le altre treceri dicono le danni in eccesso da questo attacco deve essere dato a un nemico a un nemico nave a un obiettivo nave che controlli il nemico attaccante prende più 1 più 2 invece se controlli un personaggio un personaggio un obiettivo nave esaurito o fai andare la tua o vai fuori rotta o questo attacco è incontrastato se questo attacco distrugge un personaggio vai fuori rotta quindi il concetto è il concetto è bisogna sempre cercare di essere in rotta perché metà circa di questi effetti ombra che sono circa quindi un quarto del totalone facendo uno span e manazza proprio così non fanno niente o comunque non hanno l'effetto peggiore poiché siete in rotta altri effetti ombra punteranno a mandarvi fuori rotta alcuni si potranno gestire altri ovviamente meno a seconda del board state però in questo senso non mi sento di dire che in questa avventura ci vuole necessariamente cancellazione di ombre nel senso che come sempre le ombre possono rompervi le uova nel paniere ma se approcciate la quest sempre tenendo presente che dovrete necessariamente essere in rotta metà degli effetti ombra di fatto non vi daranno grande fastidio quindi il vero cancellazione degli effetti ombra è nell'approccio alla quest che è quello che già dovete fare normalmente per poterla superare e vincere quindi orientatevi in questa direzione qua invece per quanto riguarda diciamo come affrontare la quest ne abbiamo già abbiamo già disseminato tante informazioni nel corso di questa prima parte chiaramente non mi stancherò mai di dirlo il concetto è non essere mai fuori rotta quindi tutto deve essere fatto affinché rimaniate rotta che significa in estrema sintesi che dovete in qualche modo mettere sul tavolo in maniera veloce tanti alleati a basso costo che possano affrontare con successo le prove di navigazione questa avventura vi dà il senso di quello che saranno le altre tre avventure di navigazione e vi dice nota bene se rimanete in rotta le cose si fanno più facili se andate fuori rotta le cose si fanno più difficili per cui pertanto tutti quegli alleati che a costo uno possono scendere velocemente possono essere usati come corpi per la navigazione quindi la testitrice galadri lo snowboard scout il scudiero della cittadella l'airboard record keeper le aquile all'interno della sfera tattica che costano uno insomma tutto ciò che può funzionare ed essere utile per fare quest di navigazione va messo quindi sappiate che questo ciclo esige che nelle quest di navigazione swarmate di fatto tanti piccoli alleati mentre invece in altre quest vi punirà per tanti piccoli alleati quindi siate flessibili nella costruzione del mazzo magari mantenendo gli stessi eroi ovviamente ma nella costruzione del mazzo un'altra carta che arriva ovviamente con questa espansione funziona molto bene l'indon navigator chiaramente l'indon navigator non si esaurisce per essere committato una quest e può essere committato la quest fin tanto che esaurito quindi voi lo destinate alla prova di navigazione poi esaurito e lo destinate alla quest ovviamente dovete mettere in moto un motore per cui potete sempre scartare carte dalla mano per poterlo in qualche modo tenere all'interno sul tavolo sostanzialmente un'altra carta utile che poi si combina con una combo interessante che tra poco vediamo è Yoreth Yoreth che arriva anche essa con la cerca sogni ha il grosso vantaggio di essere un alleato a costo zero e quindi può essere utilizzato non può attaccare a difendere ma può essere utilizzato tranquillamente per le prove di navigazione quindi alleati a costo zero funzionano e possono effettivamente dare un grosso valore aggiunto soprattutto nelle prime 1-2 turni della quest di navigazione sto ovviamente parlando del solo play in multiplayer il discorso è un po' diverso ma noi ci concentriamo sul solo play la Dream Chaser la Dream Chaser è quella che se al primo turno riuscite a mettere giù un alleatino e potete destinare la Dream Chaser alle prove di navigazione destinando 3 al primo turno potreste essere abbastanza tranquilli dal secondo terzo quarto turno dovrete sostituire idealmente la Dream Chaser con alleatini piccoli cercando di avere sempre 3 o 4 alleati piccoli che possono andare in prova di navigazione questo è un po' il concetto che sta alla base parlando sempre della Dream Chaser ho messo lì un 17 perché perché che voi vinciate la partita con 0 ferite o 17 ferite sulla Dream Chaser poco importa quindi il concetto è non siate timidi a prendere attacchi incontrastati sulle navi cioè lì punti ferita delle navi sono risorse di fatto cioè è una risorsa non intesa come risorsa con cui pagare le carte ma è un asset una risorsa con cui voi potete affrontare meglio la quest quindi se vi ingaggiate una nave non preoccupatevi del primo o del secondo attacco incontrastato perché avete possibilità di bancare un bel po' di danni sulle navi ovviamente state attenti perché poi abbiamo visto effetti ombra abbiamo visto altre cose rischiamo che se poi tipo la tromba d'acqua e così via stiamo attenti perché altrimenti se la mandiamo a 17 poi ci prendiamo 4 danni andiamo evidentemente a perdere però il concetto è e cominciamo a mettere i primi tasselli swarm di alleati per rimanere sempre in rotta sfruttare le navi e i loro punti ferita per prendersi anche attacchi incontrastati soprattutto negli ultimi stadi quando all'ultimo stadio dovete decidere se fuggire oppure no potete anche decidere di ingaggiarvi una nave prendere gli attacchi incontrastati e poi fare un all-in di questa al turno successivo se siete rimasti in rotta e anche se avete 10, 12, 13, 15 danni sulla cerca sogni fa niente non è un gran problema quindi rimanere in rotta sfruttare le navi con il loro potenziale fare location control questo l'abbiamo detto tante volte perché ci sono tanti luoghi che vale la pena diciamo togliersi dall'area di allestimento di rolling seas rough waters e così via anche per andare a rimescolare il prima possibile nel mazzo e location control lo si fa con il braccatore del nord con il rovagnon outrider che forse è addirittura meglio perché volete magari essere selettivi su dove andare a mettere i segnalini di progresso non su tutti per tutte quelle considerazioni di dire magari ci vogliamo tenere dei luoghi in area di allestimento per esplorarli dopo tipo il banco di nebbia e così via e quindi il rovagnon outrider probabilmente è un po' meglio in questa quest del northern trekker perlomeno in trusolo oppure anche la stella della sera da evening star ottima carta perché tra l'altro un paio di evening stars vi blancano il mare in tempesta il mare impetuoso e vi blancano nel senso vi distruggono il mare in tempesta e il mare impetuoso per cui vale sempre evidentemente la pena sempre parlando di location control il manacco dell'esploratore è molto utile perché vi permette di selezionare un luogo da diciamo distruggere in area di allestimento e quindi di conseguenza tutto ciò che ne consegue con quello che abbiamo detto prima un'altra carta interessante è il mariner's compass cioè la bussola del marinaio che è una carta effettivamente un po' difficile un po' di nicchia però può essere per esempio associata allo snowboard scout o allo square of the city o a qualche altro personaggio esploratore che dice all'inizio della fase di viaggio esaurisci il compass e il personaggio attaccato per cercare nelle cinque carte dell'encounter deck per una location switch a quella location con una location nell'area di allestimento qual è il grosso vantaggio che magari voi potreste avere non lo so lo starlit sea in area di allestimento ok e lo andate a cambiare con il water spot qual è il grosso vantaggio che rimescolate nel mazzo un segnalino timone e questo vale anche per il rolling seas magari andate a prendere una location come il banco di nebbia che lo togliete dal mazzo diventa una location utile alla bisogna e rimettete nel mazzo un segnalino timone quindi tutto ciò è funzionale effettivamente quindi sappiate che in questa avventura la bussola del marinaio può dire assolutamente la sua un'altra carta un po' di nicchia difficilmente utilizzata ma che mi è venuta in mente mentre ragionavo su questa avventura è una carta del ciclo di Numenor quindi accessibile alla prima era a watchful peace risposta dopo che una location che non ha victory point lascia il gioco come location esplorata ritornano al top del mazzo incontri ecco immaginate che avete superato la quest e avete viaggiato e avete esplorato il luogo attivo che sono le calm waters o anche le rough waters non andrete a ingaggiare i nemici perché magari state giocando a bassa minaccia perché siete sotto quel 35 perché per tutti i motivi che abbiamo detto è meglio non ingaggiarsi generalmente i nemici in questa quest per via della parola chiave boarding esplorate la rough waters l'andate a mettere sul top del deck come prima carta della prova di navigazione del turno successivo qual è il grosso vantaggio che siccome sapete che c'è questa carta potete destinare magari solo uno di questi personaggi alla prova di navigazione perché siete certi di quello che andate a prendere e questo in generale vale e qui ci spostiamo verso l'altro elemento interessante per tutto ciò che vi permette di fare scry del mazzo cioè di andare a valutare di andare a vedere quali sono le carte in cima al mazzo incontri denethor enamart canto di fiume tutto ciò che vi dice guardo la prima carta oh guarda c'è un simbolo di navigazione perfetto so che non devo destinare 4 personaggi all'impresa scusate alla prova di navigazione e è un grosso vantaggio in termini di action ha vantaggi di economy per cui un denethor che può andare a vedere la carta e capisce se c'è l'icona timone oppure no può essere molto utile effettivamente stesso discorso per enamart canto di fiume carte un po' più raffinate che appartengono alla prima era sono il far sighted che come azione dice guarda le top 5 carte del mazzo degli incontri mettili nello stesso ordine utilissimo perché vi dà un'idea di quella che sarà la prova di navigazione lo staging e le eventuali carte ombra per cui carta eccezionale in questa avventura anche proprio per capire quanti personaggi esattamente destinare alla prova di navigazione e un'altra carta del ciclo di boscato di cui io sono un grande fan in trusolo e in questa avventura è ancora meglio azione muovi la top card dell'encounter discarpile al top del mazzo incontri avete esplorato luogo avete subito una carta ombra in un qualsiasi momento c'è nella discarpile una carta con un segnalino timone beh è quella che andate a mettere sul top del mazzo per fare effettivamente bene la vostra prova di navigazione quindi ripetiamo avere tanti alleati per andare in ottima prova di navigazione gestire i luoghi con location control anche selettivo che è addirittura meglio del northern tracker sfruttare i grossi punti ferita della dream chaser e dell'altra nave che andrete a scegliere ricordarsi che le navi non sono immune agli effetti delle carte dei giocatori per cui possono essere anche tranquillamente fintate e potete anche pensare alcuni piccoli trucchetti di cui ve ne porto alcuni uno è the great hunt la grande caccia accessibile alla prima era che devi usare risorse dal pool di tre differenti eroi per pagare per questa carta azione di combattimento scegli e scarto un nemico non unico nell'area di allestimento la corsair warship è un nemico non unico e quindi può essere diciamo tranquillamente scartato in area di allestimento semplicemente sparandogli addosso la grande caccia un'altra carta anche questa un pochino più raffinata che arriva col ciclo di ara dell'hunting party giocala solo se controlla un personaggio unico con il tratto guerriero un altro personaggio unico con il tratto esploratore risposta dopo che hai committato i personaggi alla quest scarta un nemico non unico in area di allestimento e quindi rivela una carta incontro qual è il grosso vantaggio che magari vi togliete la corsair warship e rivelate una location per esempio oppure sapete esattamente quello che rivelate perché con farsight avete fatto scry del mazzo e quindi di conseguenza ha il suo perché quindi potete far fronte a queste navi sia con le finte sia con carte un po' più raffinate proprio per gestire meglio diciamo la grandezza la magnitudine del problema che una corsair warship vi dà un'altra cosa sicuramente interessante è questa micro combo diciamo gloin con canzone della saggezza e ioreth perché se voi avete un arciere 4 voi fate 3 danni a gloin che si tramutano in 3 risorse poi ne usate una di gloin perché ha la risorsa verde per tappare ioreth e curare gloin quindi un altro modo in cui potete tranquillamente gestire la corsair warship in area di allestimento è se tappare un gloin più canzone perché così gloin ogni turno si becca 3 danni ne cura 3 e ha 2 risorse nette gratuite in più quindi diventa una sorta di sovraintendente di gondoro a costo 0 che effettivamente quasi vi fa essere contenti di vedere la corsair warship in area di allestimento senza che andiate ad ingaggiarlo ultimo ma non ultimo il rivela di un rat che c'è anche nella cerca sogni seconda era gioca la scuola se controlla un errore in order azione scegli un nemico non unico fino alla fine della fase tratta il testo di quel nemico come se fosse vuoto eccetto per i tratti una cosa interessante è che per esempio voi potreste diciamo in una finestra di azione della fase d'incontro dopo l'impegno facoltativo prima delle verifiche d'impegno supponiamo che abbiate minaccia 44 perché avete gestito la warship fino a 44 e poi siete costretti a ingaggiarla beh quando la ingaggiate potete andare a blancare il suo testo quindi in questa finestra di azione non facoltativamente importante ma dopo le verifiche d'impegno quindi dovete avere minaccia 44 blancate il testo e gli togliete il boarding di fatto non vi spawna non vi butta fuori pirati che chiaramente sono un elemento di difficoltà stesso discorso per la scouting warship se riuscite a blancarle il testo le togliete magari quel meno 15 di costo di ingaggio per cui magari siete fuori corso siete fuori rotta questa 20 non siete pronti a ingaggiarlo con il reveled in rat riuscite effettivamente a blancare il testo carta che ho usato anche nel play 2 della cerca sogni che è quello che vi ho un po' linkato all'inizio ultima cosa prima di concludere le side quest allora questa è una quest dove bisogna fare un po' veloce in realtà per cui non è che c'è tutto sto tempo della side quest però una cosa regolistica importante è che nonostante voi decidiate di andare sul double back o su qualsiasi altra side quest la parola chiave navigazione funziona cioè per la definizione della parola chiave navigazione dice sostanzialmente che all'inizio della fase d'impresa se l'impresa principale ha la parola chiave di navigazione allora fai queste cose quindi non importa il fatto che andiate su una side quest perché la parola chiave navigazione funziona indipendentemente c'è proprio scritto nel manuale che all'inizio della fase d'impresa fate questa cosa per cui sappiate che possono essere sicuramente utili soprattutto in linea particolare non l'ho messa qui ma una carta che è sicuramente utile che andiamo a prendere subito è lo scout ahead perché possiamo andare a fare scry del mazzo quindi in generale tutto ciò che fa scry del mazzo può essere utile ecco non è un'avventura sulla quale però andrei troppo sul side quest proprio perché lo scopo è proseguire più velocemente verso l'ultimo stadio e andare a chiudere l'avventura bene io spero che questo video di analisi guida strategica vi sia piaciuta ci sono un bel po' di consigli spero che siano utili vi ricordo se vi piace il canale di iscrivervi di seguire le pagine instagram le pagine facebook se volete anche potete visitare la sezione abbonamento di youtube e perché no offrirmi un caffè come sempre vi ringrazio vi aspetto sul server discord grazie ciao alla prossima grazie a tutti